penso che questa sia la prima volta che faccio una reaction o risposta al video di un altro youtuber in questo caso uno youtuber incredibile che io stimo tantissimo che a falco nero riguardo al suo video del 10 di gennaio il talento non basta so che anche un altro altri amici hanno risposto come crystal cross gaming oltretutto il comico comico è interessante che abbia proprio risposto lui perché io e lui su questo argomento parliamo spesso e volentieri diciamo che abbiamo una posizione complementare nel senso che condividiamo certe idee ma io poi faccio secondo me un saltino in più un leap in più ma andiamo a parlarne cosa dice falco nero nel suo video sapete che falco nero spesso parla della sua vita e parla del fatto che comunque le difficoltà ti temprano le difficoltà ti mandano avanti che uno può avere tutto il talento nel mondo ma se non si fa un culo così perché poi quello il discorso e non ha fame quindi non ha alcun tipo di scorciatoia scappatoia ma esigenza di raggiungere un obiettivo realizzano un sogno fare qualcosa lui può farcela anche senza talento questo discorso che sento spesso e sono di cui io sono assolutamente condivido pienamente nel senso che assolutamente il lavoro giorno per giorno e la costanza e il non mollare mai è la chiave per raggiungere qualunque tipo di obiettivo possibile ragazzi sogni possibili e realizzabili se voi avete 50 60 anni per dirvi e volete fare gli astronauti quello non è un sogno possibile a meno che non state scappando con una navetta perché sta esplodendo la terra allora li diventate astronauti bravi ggvp botta di culo che c'è anche quella può esserci però quindi lui fa tutto questo discorso che condivido assolutamente raccontando un po la sua vita oltretutto io e lui siamo coetanei entrambi 33 anni e abbiamo le storie contrarie nel senso che lui è partito per l'inghilterra a 5 anni e poi è tornato in età più avanzata io sono partito per l'irlanda a 27 anni e non sono ancora tornato quindi c'è anche questa duplice queste difficoltà che si sono trovate che abbiamo trovato lui parla appunto di tutte della sua valbuzia del fatto che ha dovuto imparare e si è dovuto spaccare perché non aveva scuse lui voleva fare questo si è tolto si è bruciato la barchetta come ha detto lui no io vado nell'isola che rappresenta il mio sogno brucio la barca che la mia unica fonte di salvezza è l'unico modo per poter tornare indietro per dire e devo farcela la classica scena no del vuoi imparare a volare ti butto giù dal nido se voli bene se non voli ti sfraccelli che condivido assolutamente in pieno ma sul discorso del talento poi secondo me c'è da fare uno step ulteriore per quanto mi riguarda capisco perfettamente il suo discorso sono sempre stato un bollizzato da ragazzino c'ho fatto dei video ho fatto anche dei video riguardo agli anime manga riguardo al bullying avevo avuto una situazione familiare molto complicata da ragazzino mi sono fatto sono stato bocciato sembrava che io non fosse in grado di studiare perché non avevo non è non ne avevo voglia o poi non sono riuscito a entrare a medicina che era il mio sogno mi sono avuto un miliardo di problemi fisici però però ogni volta un centimetro alla volta ogni giorno comunque andavo avanti anche strisciando balco la bava sul pavimento perché ero disperato non vedevo una via di fuga comunque non era un metro quel giorno era un centimetro e ci portavamo a casa un centimetro ragazzi un centimetro alla volta citando quella maledetta ogni ogni maledetta domenica arrivando fino a un giorno a un punto dove ho detto no ragazzi basta io dall'immobilismo no comunque si facevo il cameriere facevo il barista certo studiavo poi mi ero laureato in qualche modo anche in qualcosa che non mi piaceva da quell'immobilismo un giorno mi alzo guarda i miei mappa eh c'ho un biglietto di solo andata per l'irlanda un mille euro in sacoccia che è tutto quello che ho ho l'accommodation un letto per due settimane io me la provo se ce la faccio bene se non ce la faccio ci vediamo tra un mese sono cinque anni e mezzo qua che sono qua in irlanda e in irlanda ho capito che non mi non sono grande non ho un talento non ho talenti per per un lavoro d'ufficio né per un lavoro più dinamico ho provato cambiato tanti lavori ho lavorato anche nel testing e mi sono reso conto che forse veramente il mio sogno e la mia unica aspirazione è quella di stare qua e raccontare parlare di creare di essere artistico utilizzando la mia esperienza la mia persona le esperienze le persone che ho conosciuto anch'io ho conosciuto un sacco di gente che è qua 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 è un sacco di gente che invece poi ha sfondato e sta sfondando l'ho visto un po come il mondo non sono chiaramente ragazzi su youtube sono uno sputo nel mare però come esperienza mi trovo stra fine a quella che è a quella di falconero e lui dice dovete avere determinazione dovete avere fame non ve la sentite non ce la fate un avevo un compagno di università che mi diceva quando io avevo paura di dare un esame continuava a rimandare rimandare un giorno mi prende mi fa sai che tu l'esame non lo dai finché non ti siedi su quella sedia è inutile star lì coi sei coi ma e roba prendi vai e affronta le cose non dico sì uomo perché è una frase del cazzo perché che gira tanto cosa vuol dire ma prendi embrace your dreams prendi i tuoi sogni prendi la tua vita e vai avanti tanto se le prendi da dietro cosa cacchio cos'è le prendi anche davanti ci sei abituato ma almeno vai avanti ok qual è lo step successivo secondo me ora al di là della piattaforma del parla dei videogiochi che il carattere che ormai è tutto saturo che è ormai youtube bla 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 io sono convinto che certamente una persona con talento senza metodo senza imparare senza sbattere senza sudare sangue non andrà avanti e non sboccerà col suo talento ma sono altrettanto convinto che una persona che ritiene di non aver talento in verità ne possiede uno tutti possiedono un talento almeno tutti il fatto che non riesca a capire quale è non vuol dire che non lo abbia faccio sempre l'esempio di persone che dicono sono senza talento ma ce l'hanno fatta nella vita il tuo talento è non mollare e allora qual è il punto analizzati controllati esamina come sei fatto come persona prenditi del tempo per conoscerti e farti quelle cazzo di domande che sono normalmente terribili e che non ci vogliamo fare che teniamo nascoste nei posti più recondidi del nostro cuore perché quando tornano fuori la nostra mente è nuda e non può rispondere in maniera logica o comunque proattiva e dirti ma io chi sono ma io cosa sono cosa ho fatto nella mia vita cosa cosa che successo ho avuto anche se piccoli dov'è che ho brillato almeno una volta nella vita in questo in questo in quello sono bravo a parlare con le persone sono bravo nella dialettica sono bravo a capire le persone sono bravo a tenere duro a incassare i colpi sono bravo perché ho una velocità di scrittura prendete il vostro talento e andatelo a mettere all'interno della vostra fame della vostra determinazione per citare i termini usati da falconero io non penso che nessuno abbia un talento io penso che tutti abbiano del talento chi più sviluppato e chi meno il punto è riuscire a farlo emergere a fondo a seguito di un impegno extra extraordinario poi è molto difficile capire quello che si vuole fare nella vita questo penso che sia la cosa più complessa di tutte ed è per questo che io trovo estremamente importante il decidere in maniera logica quello che si vuole fare molte persone arrivano a 40 anni che non sanno cosa fare della loro vita c'è una grande fra c'è una canzone che diceva le persone più interessanti che ho conosciuto nella mia vita 40 anni non sapevano ancora cosa fare da grandi però non erano persone immobili erano persone che dietro di sé comunque anche se non tenevano una linea dritta e di rapina di curve e raccostellata di cose incredibili o particolari o interessanti che avevano comunque fatto e approfondito ed esperienze volete farcela in qualunque campo perché io non posso dirvi su youtube perché io non ce l'ho ancora fatta io mi sto sbattendo per farcela quindi il mio è un lavoro in progressione oltretutto io ho anche un lavoro vero quindi io mi devo dividere tra le due cose e forse non sono ancora in quella condizione dal ver fame no quindi nonostante io credo di dare tutto in verità forse non sto veramente dando tutto forse dovrei mollare anche il mio lavoro vero e dire va bene non c'ho una lira devo riuscire a far qualcosa qua non lo so questa è una cosa che ancora non forse non ho le palle di fare o forse non è ancora arrivato il momento di fare questo non ne ho idea però so benissimo che cosa vuole dire spaccarsi giorno per giorno l'importante come l'innamoramento ragazzi pensate che la vostra la vostra fidanzata o la vostra moglie o la vostra compagna si sia innamorata di voi perché un giorno gli avete portato dei fiori non penso proprio penso che sia innamorata che si penso che sia innamorata di voi e lo continui ad essere non perché c'è una value ma perché al mattino vi svegliate le dite buongiorno prima di guardare il telefono il giorno dopo andate a prendervi un drink e ne portate uno anche a lei il giorno dopo ancora le dite una frase carina quando è vestita bene dal nulla senza motivo giorno per giorno l'amore come la vita come il lavoro si costruisce giorno per giorno un centimetro alla volta e sembrano tutte cose insignificanti disensate no oggi ha fatto questo già fatto quello ma se le metto assieme un quadrato con un cerchio e un giorno vi svegliate e avete un canale youtube da falconero 160.000 iscritti avete qualcuno che vi ama e siete innamorati avete una leadership un posto di lavoro felice ma appare dal momento all'altro ma non è perché magia è tale perché avete fatto il lavoro che c'è stato prima costante dei bei dei e poi ci avete ficcato il vostro talento che anche se non sapete quale è fidatevi è nell'equazione scopritelo io vi ringrazio vi auguro una buona serata e un trifoglio per te uno per me e uno bu vabbè ciao ragazzuoli united state of zerg